Beh dai, la Ducati è un'azienda in cui siamo tutti così, siamo grandi appassionati di moto, di corse e oggi qui a Vallelunga è una giornata straordinaria. Abbiamo la Supersport che è una moto bella, facile, divertente e non potevo farmi sfuggire a questa occasione. La parte bella di stare in pista con i giornalisti è sempre di parlare con voi, di scambiarci opinioni e di avere anche il feedback diretto sulla moto perché poi noi a casa pensiamo, ragioniamo, i tecnici fanno i loro interventi, le loro idee ma alla fine è proprio il giudizio finale. L'unico che conta è quello dei ragazzi che comprono la moto e i giornalisti che la provano per primi sono quelli che in qualche modo ci intermediano. Io mi sono divertito moltissimo perché non potendo andare in pista spesso, questa è una moto che non mette mai in difficoltà, ti puoi divertire a scegliere le traiettorie e allungare sempre il momento in cui fai la frenata, cercare di stare bene col corpo fuori dalla moto. Questo credo che sia, ti porta a migliorare il tuo stile di guida e divertirti senza essere mai impegnativa. La parte bella di questa 9,50 nuova è anche tutti i miglioramenti che ci abbiamo fatto, credo che il cambio sia una delle cose più belle, poi mi dirai la tua opinione, perché è veramente un gioiellino adesso perfetto, fluido, preciso. Beh, per prezzo e posizionamento è il punto di ingresso nel mondo delle sportive educate, è molto chiaro, quindi esiste anche in versione depotenziata, quindi è proprio destinata a tutti i ragazzi che vengono a 18 anni, quando arrivano 18 anni possono guidare una moto depotenziata, questa è la, per chi sogna la panigale nel futuro, questo è il punto di ingresso e credo che sia non solo in qualche modo un di meno, ma è anche per posizione di guida, per comfort, è una moto molto più, se vogliamo, multiuso della panigale. La panigale è molto chiaramente sportiva, molto chiaramente indirizzata al massimo delle prestazioni assolute, questa è una moto più bilanciata, i manubri sono molto più, posizione più alta, più aperti, la distanza sella pedane, quindi è una moto che si usa bene su strada, il motore ha poco più di 110 cavalli, quindi sembrano pochi nel contesto delle moto da oltre 200 cavalli di oggi, ma se andiamo, la 916 è stata la moto, se vogliamo, forse più importante della storia della Ducati ed è una moto che aveva queste prestazioni, quindi è una moto già di prestazioni straordinarie, per chi la usa non depotenziata, però che da depotenziato dà un bel punto di accesso, quindi a chi è dedicata, ai ragazzi giovani soprattutto, ma anche a tutti quelli che vogliono una sportiva più confortevole e meno estrema di una super sportiva come la Panigale. Ma sai, io credo che ogni azienda abbia le sue particolarità e nel mercato delle moto ci sono aziende di grandissimo valore ed è per cui bisogna prestare grande rispetto che fanno ottimi prodotti. Noi come Ducati siamo sicuramente molto italiani, molto fieri di essere italiani e credo che l'italianità sia in qualche modo anche connotata da questa voglia di stare insieme un po' come una famiglia, quindi siamo molto orizzontali, noi ci siamo del tutto tutti in Ducati e siamo tutti appassionati di moto. Come dico io, tutti quelli che entrano in Ducati diciamo sono cresciuti a latte e benzina, che adesso nel mondo delle auto elettriche e delle moto elettriche dovremmo cominciare a trovare anche cresciuti a elettroni, perché però tutte persone che si appassionano, quando nasce un prodotto nuovo, si appassionano per le gare. Io ho i sindacalisti, noi siamo un'azienda di 1800 persone, nell'Emilia Romagna, quindi nel cuore anche di un rapporto sindacale molto, se vogliamo, coinvolgente. I sindacalisti mi mandano i messaggini dopo le gare per dare un'idea di quanto c'è questo coinvolgimento. Quindi quello probabilmente a cui ti riferisci tu è questa grande passione personale delle persone che vivono questo sì come un lavoro, ma anche come una realizzazione della propria aspirazione, che è quella di stare vicino alle moto, sia che sia una moto di serie come questa o moto da gara come quando ci incontriamo nelle piste per il campionato MotoGP.